L'intervento dei carabinieri hanno trovato una scena veramente allucinante, a parte anche i resti con le macchie di sangue e una scena veramente molto accapricciante. È di tre cittadini cinesi feriti, di cui uno in fin di vita con il volto sfigurato da un colpo di mannaia, il tragico bilancio della violenta rissa scoppiata in tarda serata al bar Capolinea di Montebelluna, a due passi dalla stazione ferroviaria. Quattro le persone arrestate, l'accusa più grave di cui dovranno rispondere è quella di tentato omicidio in concorso. Dietro le sbarre sono finiti Adriano Garbin, 52 anni, ed i figli Massimo, 30 anni, e Manolo, 18, fermato anche un minorenne. Stando alle ricostruzioni effettuate dai carabinieri e supportate dai video delle telecamere di sorveglianza, tutto è iniziato quando la famiglia di Giostrai aveva aggredito una barista cinese minorenne, intervenuta per sedare un diverbio sorto tra gli stessi e due avventori marocchini. La ragazza sarebbe stata presa a schiaffi in suo aiuto, sono poi intervenuti dei connazionali, gestori del bar. A questo punto si è scatenata la furia dei Giostrai contro gli asiatici. Giostrai si sono andati a procurarsi delle armi, anche delle armi da taglio molto preoccupanti perché è spuntata fuori una mannaia e con questa qui hanno aggredito sia questi ragazzi cinesi che poi hanno infranto le vetrine del bar, dilagando all'interno dell'esercizio pubblico e seminando il terrore al cospetto dei presenti. Per un soffio la cinese minorenne è riuscita ad evitare un colpo di mannaia al petto. Peggio è andata il connazionale che ora lotta tra la vita e la morte a dopo essere stato colpito da un potente fendente alla mascella. Il rapido intervento dei carabinieri che hanno passato a setaccio i campi nomadi della zona ha portato prima all'arresto dei figli ed infine anche del capofamiglia. Il padre che evidentemente si era nascosto meglio, noi ci siamo tutti allontanati, abbiamo fatto allontanare tutte le pattuglie e abbiamo fatto convergere dei militari in abiti civili e quindi è uscito lo scoperto il padre e siamo riusciti ad arrestare anche lui.